Maria, buongiorno. Ciao Maria. Buongiorno, buongiorno. 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 Grazie a tutti. 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 Viviamo questo momento importante per la nostra comunità, quella di celebrare la solennità della nostra patrona Santa Reparata. E viviamo questo momento che deve essere quasi un segno di quello che la festa deve essere. Nell'offerta che noi facciamo alla nostra santa dei doni abbiamo due motivi per riflettere. Il primo motivo è quello di ringraziare il Signore per tutto quello che ci dà anche in questi momenti molto particolari della nostra storia. E il secondo è quello di offrire non tanto cose ma noi stessi come ha fatto Santa Reparata. Guardando a lei vogliamo prendere un esempio molto importante e vogliamo anche noi vivere nella lode di Dio, nel ringraziamento e vivere la nostra vita come un'offerta a Dio. Ringrazio tutti voi, ringrazio tutti coloro che hanno organizzato questa manifestazione che è forse la manifestazione che più coinvolge la nostra cittadina al di là dei confini parrocchiali. E' veramente quella cosa che ci unisce un po' tutti. Allora in questo momento sentiamoci veramente come un solo popolo che loda a Dio insieme alla sua patrona Santa Reparata e chiediamo con fiducia quello che anche il nostro cuore non lo sa sperare. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Dio che vi ha scelti per essere santi, sia con tutti voi. Preghiamo tutti insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro Il Padre nostro Il Padre nostro Il Padre nostro benedettosi tu di onnipotente fonte di ogni grazia e corona di tutti i santi per l'intercessione di santa reparata stendi la tua mano su di noi e sulle cose che ti offriamo e fa che non ci dispiaggia di imitare con lei che amiamo celebrare così godendo della sua protezione sulla terra potremo condividerne la sorte gloriosa nei cieli per Cristo nostro Signore ravviva in noi o Padre nel segno di quest'acqua benedetta l'adesione alla tua volontà in Cristo fonte di ogni benedizione grazie 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 Il Signore sia con voi, il Signore misericordioso rivolga su di voi il suo sguardo e vi aiuti nel tempo opportuno, vi doni una vita tranquilla e vi faccia abbondare di ogni consolazione, vi protegga con la sua mano potente sulla terra e vi guidi alla beatitudine eterna e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlia e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace. 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 Grazie a tutti. 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 Buongiorno. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti